Chi può mettere, chi ha bisogno prende. È questo il criterio del muro della gentilezza che metteremo in campo nella nostra città. Ho fatto mia la valida proposta di una concittadina portandola in approvazione in giunta ai fini della sua concreta realizzazione. Una iniziativa solidale che sono certa troverà concreta attuazione grazie a voi e al vostro buon cuore. Così l'assessore alle politiche sociali del Comune di Agropoli, Maria Giovanna D'Arienzo, riguardo all'iniziativa Il Muro della Gentilezza. Da più di un anno il mondo intero è stato coinvolto da un'epidemia da Covid-19 che si è diffusa in tempi brevissimi ovunque e che ha sconvolto l'assetto e la routine quotidiana di ogni cittadino. Anche in Italia c'è stato un evolversi della situazione epidemiologica che ha costretto il governo a disporre sempre nuove e più misure restrittive al fine di contenere l'epidemia. A seguito di tali disposizioni e in ragione della diffusività del virus, ogni città, tra cui anche Agropoli ed il comprensorio territoriale, ha subito gli effetti di tali restrizioni mettendo a dura prova l'economia ed il potere di acquisto delle famiglie. A sostegno della popolazione in difficoltà, tutte le istituzioni ai vari livelli hanno predisposto misure ad hoc per l'erogazione di sussidi economici e strutturali, nonché l'operato di una rete di uomini e donne che, mossi da un grande spirito di umanità e solidarietà, hanno dato un fondamentale supporto volontario attraverso iniziative varie a sostegno dei più deboli. In questa fase storica, particolarmente precaria, qualunque azione di umanità e generosità è segno di identità e volano di reale crescita di una comunità e per queste ragioni è meritevole di approvazione l'iniziativa Il Muro della Gentilezza. Fanno sapere da Palazzo di Città. La proposta è partita da Daniela Orrico, cittadina di Agropoli, nel mese di gennaio scorso. Il Muro della Gentilezza, ovvero sia un luogo in cui deporre e ritirare oggetti destinati alle famiglie in difficoltà, darebbe la possibilità a chi ne ha bisogno di avere a disposizione coperte, indumenti, libri, articoli di cancelleria e tutta una serie di cose utili per la persona e per la casa. Il servizio, aggiunge Daniela, sarebbe curato in maniera volontaria dalla mia persona ed altri volontari nel nostro gruppo, per evitare che diventi un ricettacolo di degrado. È gestito in totale anonimato, chiunque potrebbe lasciare o prelevare ciò di cui ha bisogno senza che altri verrebbero a saperlo. Come location è stata individuata l'area polifunzionale in piazza Merola, essendo dotata di copertura utile per proteggere quanto donato dalle intemperie. Dedicare uno spazio, conclude Daniela, alle famiglie meno abbienti che vivono questa fase storica in condizioni di precarietà e spesso anche solitudine, significa dare voce agli ultimi e sostenerli, proporre loro soluzioni immediate e concrete. La richiesta ha trovato riscontro positivo ed è stata approvata in giunta comunale. Grazie. Grazie.